Grazie per essere qui e dedicare qualche momento a te stesso per ritrovarti e per centrarti nell'armonia con l'universo e con la creazione. Per integrare la paura visualizza un seme che produce una pianta verde sui punti legno, uno dei reni ed uno del fegato. Grazie per essere qui. 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 Grazie a tutti